Grazie Laura, grazie a Giovanni Fiandaca e a chi ha voluto organizzare questo incontro, a Paola Maggio, in modo particolare ovviamente grazie ai nostri due autori Gigi Pagano e Gaetano Siciliano per i testi che ci hanno offerto e che ci consentono questo confronto, questa riflessione tra di noi, che credo veramente possa essere molto utile e interessante proprio a partire da questi testi. Questi testi, lo diceva già Laura Cesaris all'inizio del nostro incontro, sono appunto due testi che raccontano una storia. Io direi che ne raccontano unitariamente una storia e ora vi dico. Si tratta appunto di memorie professionali, di due persone che hanno svolto o svolgono lo stesso lavoro in tempi leggermente sfalsati e questo anche ci aiuta ovviamente. ci aiuta perché ci consente appunto di ricostruire l'unitarietà di una vicenda. Gigi Pagano inizia la sua esperienza professionale nel 1979, quindi all'indomani della riforma, siamo ancora appunto sul fine degli anni 70, con tutti i problemi del fine degli anni 70, con tutti i problemi del fine degli anni 70, in modo particolare in carcere, l'emergenza del terrorismo e quant'altro. Gaetano Siciliano invece inizia la sua esperienza professionale nel 1993, se non ricordo male, quindi diciamo all'indomani di quello che io reputo essere il vero cambio del sistema penitenziario e della cultura penale, non penalistica, non penalistica, dell'opinione pubblica e delle forze politiche che matura appunto all'inizio degli anni 90, quindi dentro un contesto già molto diverso da quello che certamente ha segnato e ha formato Gigi Pagano. E quindi noi, e arriva l'esperienza di Gaetano Siciliano, arriva fino ad oggi, essendo in attività, lo vediamo nella sua stanza di lavoro a San Vittore, e quindi racconta anche tra le altre cose, racconta l'oggi, racconta la rivolta di marzo, racconta quelle difficoltà lì, la gestione del covid dentro l'istituto penitenziario, su cui evidentemente poi tornerò perché è una cosa che ci sta a tutti evidentemente molto a cuore. Quindi questa storia che noi possiamo leggere attraverso due vicende umane così ricche, diciamo, è una storia di percorsi professionali, indubbiamente, con quel riferimento, diciamo sì, che è già nel titolo di Gigi Pagano al ruolo, il direttore, no? Ecco, immagino quanto questa lettura possa essere interessante per non so quanti sono le migliaia di giovani e meno giovani che si stanno affollando in attesa del concorso da dirigenti penitenziari, che credo sia in corso o sospeso, non so bene perché, diciamo, si sa bene quel che succede e quel che non succede in questi tempi. Però, insomma, due percorsi professionali molto ricchi, in cui c'è tanta storia, tanto racconto, tante vicende molto importanti. È una storia però, questa storia complessivamente intesa, dell'amministrazione penitenziaria dagli anni 70 ad oggi ed è anche la storia della grande promessa della Costituzione. Forse i più anziani qui in questo gruppo, io ormai mi considero tra i più anziani, i più anziani in questo gruppo ricorderanno forse il primo giornale carcerario, diciamo, repubblicano, quello fatto a Porto Azzurro, che si chiamava appunto La Grande Promessa, era la grande promessa della Costituzione, la grande promessa, questo speravano a Porto Azzurro, del superamento dell'ergastolo e ancora ne stiamo discutendo, eccetera, eccetera, eccetera. Però è la grande promessa della Costituzione, quindi si legge anche in qualche modo questo svolgimento. Cosa ci insegna questa storia? Io appunto mi annovero, diciamo, nella parte dei disincantati, e quindi a me ovviamente mi è piaciuta molto il passo in cui Gigi Pagano dice a chiare lettere, peraltro citando, diciamo, tra i capi dell'amministrazione penitenziaria, uno di quelli che certamente ha avuto più visione, più motivazione, Niccolò Amato, Gigi Pagano a pagina, mi pare, 23 del suo libro, dice che poi questo tentativo di fare, di dire del carcere una cosa che poi il carcere non riesce a essere, è una storia infinita, che inizia dalle sue origini perché non abbiamo il coraggio di dire che il carcere è una forma di segregazione, è essenzialmente, intimamente, innanzitutto, innanzitutto una forma di segregazione. Questa cosa ovviamente non ci piace, non ci piace dirlo, non piace a noi e non piaceva a quelli di uno o due o due secoli fa, diciamo, che hanno iniziato, diciamo, sia a pensare a un carcere che dovesse avere altre funzioni che non la segregazione e però questa segregazione torna costantemente e cerca di essere in qualche modo giustificata o occultata da tutte le nostre buone ragioni, quelle che ci possiamo mettere, tutte le motivazioni, la costruzione dottrinaria che c'è anche intorno alla funzione della pena, cosa debba essere e cosa non debba essere. E purtroppo però la verità del carcere poi è quella e si vede, diciamo così, nei mille incidenti, diciamo, i due libri sono fatti, diciamo così, di, come dire, un grande orgoglio per i successi, diciamo, no? E poi anche la fatica dei mille incidenti che sono capitati sia all'uno e all'altro dei nostri autori, che in qualche modo ci dice che il carcere resiste nell'essere se stesso nonostante la professionalità degli operatori. La professionalità degli operatori, che qui si può vedere, come in altri testi di memoria e di racconto, che sono quelli che vengono in qualche modo in questo gioco tra ciò che il carcere è e ciò che il carcere si dice che dovrebbe essere, poi gli operatori sono quelli più esposti, diciamo, perché, come si dice, con un termine orrendo, un'espressione orrenda, sono quelli che ci mettono la faccia, poi tocca a loro stare lì, diciamo, e cercare di far le nozze con i fichi secchi. Però, appunto, io penso che in tutto questo, ovviamente, se c'è una verità ed è una verità, come dice Pagano, diciamo, che dura da secoli, diciamo, bisogna con questa verità farci i conti. Allora, bisogna dirsi che non è vero che il carcere è, diciamo, trascurato dalla politica. In realtà il carcere è usato dalla politica, esattamente per il modo con cui noi lo vediamo, diciamo sì. C'è un rapporto di, come dire, di utilizzo del carcere per quella sua funzione segregativa, securitaria, rassicuratrice, diciamo così, dell'opinione pubblica a seconda delle circostanze, o semplicemente rassicuratrice del potere quando, diciamo, nel carcere sono custodite persone che evidentemente sono di fastidio per chi ha il potere. E questa funzione politica così rilevante viene scaricata, appunto, su una strana amministrazione di cui troviamo traccia, anche se i nostri due direttori, signorilmente, non ne fanno, diciamo, espresso riferimento. Perché una cosa paradossale di questa amministrazione mediterranea è che è una amministrazione acefala. C'è una manifestazione che è retta temporaneamente, per tempi relativamente brevi, da persone che non hanno quella esperienza professionale, quelle competenze professionali, quel percorso che può effettivamente dirigere le strutture di questo direttore. E questo è abbastanza impressionante, perché questo dà il senso anche della modalità con cui, appunto, la responsabilità politica alla fine si riserva, diciamo, la decisione ultima. Perché, appunto, l'amministrazione penitenziaria è un'amministrazione sostanzialmente acefala, in cui i migliori dirigenti non possono aspirare, diciamo, a diventare i capi dell'amministrazione e quindi a garantire una continuità di competenze, di esperienze, di professionalità. Un po' amaramente Gigi Pagano dice che quando abbiamo risolto tutti i problemi della Torre Gianni ci ha mandato a casa. Ecco, diciamo, succede questo, perché l'amministrazione penitenziaria è così, è una amministrazione concepita con questa idea, diciamo così, di servitù rispetto alla contingenza politica. E questo poi è una cosa che si ripercuote evidentemente costantemente e si ripercuote anche nelle cose di oggi. Io su questo voglio aprire una finestra. Anche qui Giacinto Siciliano tratta discretamente della questione del Covid, ovviamente raccontando la sua esperienza professionale, la difficoltà di quei momenti, e come fosse necessario, diciamo, avere una capacità di dialogo, di comunicazione, di motivazione, di spiegazione, e come in parte, per altro verso, non sembra una contraddizione, non fosse sufficiente, perché lui racconta come ha tentato di farlo nei giorni precedenti la rivolta, eppure non è stato sufficiente. Però poi per uscire da quella cosa senza danni bisognava avere il coraggio di parlare, di spiegare, di entrare, no? Di comunicare con le persone detenute. Ma appunto lui tratta questa dimensione. Ma se uno la guarda dall'esterno, questa vicenda Covid, e guarda l'operare dell'amministrazione, non lo so, io l'ho usato in questi giorni per circostanze attinenti, diciamo, questo termine, è imbarazzante, imbarazzante. Possiamo usare un altro termine, dal modo con cui l'amministrazione a tentoni si è mossa tra febbraio e marzo quando scoppiava l'epidemia, al lungo silenzio di questi mesi, quando noi abbastanza disperatamente, ora forse con uno sprazzo di luce, no? Abbiamo detto che le comunità carcerarie e detenuti operatori dovessero essere sottoposti prioritariamente al vaccino, essendo comunità chiuse, comunità di convivenza, comunità di sovraffollamento, comunità di promiscuità, cioè tutte le caratteristiche per cui tutti gli organismi internazionali hanno detto che sono le situazioni più a rischio, diciamo. Solo il Comitato Tecnico Scientifico Italiano non lo ha detto, o forse lo ha detto, ma noi non ce l'hanno fatto sapere, diciamo, ecco questo, no? Immagino, diciamo. Ecco. Allora, tutto questo, però l'amministrazione non parla. Voi avete sentito l'amministrazione penitenziaria, il ministro della giustizia, che ha imposto questo problema, diciamo. No, e questo io devo dire, e lo devo dire anche rispetto a questa lunga storia che qui ci viene raccontata, questo, devo dire, anche legato al fatto che non ci vede una responsabilità, questo voglio essere chiaro, diciamo, non ci vedo una responsabilità di governo, perché Dione Scampi dà l'opposizione, diciamo, su questi argomenti, diciamo, quindi non è, diciamo, sì, ma ci vedo veramente un decadimento politico-culturale che non è solo, ovviamente, di chi ha responsabilità politica, ma è, diciamo, un processo che coinvolge l'intera società. Io credo che non siamo mai arrivati così in basso nella considerazione della popolazione di penitenza. Cioè, credo che, appunto, il fatto che potesse non essere presa in considerazione una priorità vaccinale, quindi una necessità di tutela della salute, strettamente della salute, e questa è una cosa che, diciamo, sì, nella storia, nella prima parte della storia dell'Italia repubblicana non era immaginabile, non era minimamente immaginabile. È una storia di decadenza recente. Appunto, pensate ai decreti contrastanti della prima fase covid, no? Scarceriamo, però teniamo dentro quelli che hanno gravi motivi di salute e sono pericolosi, diciamo, cioè, con, appunto, no? Una contraddizione. Insomma, da questo punto di vista io credo che questa storia che loro ci raccontano va messa, diciamo, in connessione, come giustamente dice Giovanni Fiandacca, dicendo che dobbiamo prendere una battaglia, no? Una battaglia culturale. Va fatta una battaglia culturale e va fatta nella società, perché poi non ci credo agli scollamenti tra politica e società. La società buona contro la politica cattiva, diciamo, poi la vediamo sui social che cos'è la società, diciamo, ecco. Quindi, diciamo, la battaglia va fatta su questa. E questo, diciamo, credo sia la sfida con cui noi ora ci dobbiamo misurare. Chiudo, diciamo, sulle cose che abbiamo visto, diciamo, in questi mesi, proprio a partire dall'emergenza, dall'emergenza Covid. Uno, l'impossibilità di reggere l'istituzione penitenziaria sul limite del sovraffollamento, no? Questa è stata la prima cosa che abbiamo capito tutti. Cioè, dal primo giorno non ci voleva nulla, altro che il decreto svuota carcere. Cioè, servivano provvedimenti assai più radicali. Certamente bisognava liberare posti. Allora, l'idea che un sistema penitenziario possa vivere fisiologicamente, come ha ricordato qualche minuto fa Gigi Pagano, possa vivere fisiologicamente in una condizione di sovraffollamento, è una follia che rende ingestibile il sistema. E ovviamente lo piega a che cosa? A quelle funzioni segregative o sicuritarie che sono quelle, diciamo così, che gli sono iscritte, diciamo, dentro. Quindi questo è un punto e da questo punto non si può prescindere. Ed è un punto, come sappiamo, che non si risolve semplicemente inventandosi più spazi detentivi con il recovery fund o chissà che altro. Altra cosa, abbiamo scoperto dentro questa crisi che appunto il nostro sistema penitenziario è un sistema penitenziario del Novecento, cioè non è passato attraverso la rivoluzione informatica e la digitalizzazione. Ancora oggi, nella gran parte degli suiti di pena, la didattica a distanza è le fotocopie portate in portineria dall'insegnante e consegnate dal poliziotto al detenuto. Questa è la didattica a distanza, diciamo. Allora, com'è possibile ipotizzare un processo di reinserimento di una persona all'interno della società libera con delle competenze, delle modalità di accesso, se appunto questi sono i canali, le conoscenze, le competenze digitali che si hanno in carcere. Terza cosa che abbiamo visto e stiamo vedendo anche con Ornella e con tanti altri delle associazioni con cui lavoriamo. Terza cosa, la necessità di superare quel timido ingresso che c'è stato fino ad oggi dell'assistenza sanitaria in carcere per costruire un modello, come si fa sul territorio, di assistenza socio-sanitaria delle persone, perché in galera abbiamo quelli che non escono dalla galera perché non sanno dove andare, perché non hanno casa, non hanno famiglia, hanno condizioni di marginalità sociale e vengono chiusi dentro le carceri. Anche lì, diciamo, bisogna ripensare il sistema che non basta, diciamo così, la cura della malattia, ma serve la presa in carico di persone che hanno queste complicate, diciamo sì, situazioni di ordine sociale. Insomma, queste sono le cose che ci vengono oggi e per fare tutto questo serve quella cosa che diceva Giovanni Fiandata all'inizio, cioè serve scegliere, diciamo sì, ridurre il carcere a quel poco che il carcere può gestire. Allora assumiamo, diciamo sì, che la funzione principale del carcere è quella segregativa securitaria. Io penso che sia così, e io penso che sia così. E allora decidiamo chi sono, quali sono le tipologie di reato che giustificano quella enorme, come, diciamo così, sacrificio della persona e della vita umana, dello stare chiuso dentro un carcere. Decidiamo che il carcere serve per quelle persone, diciamo, e per quelle persone costruiamo offerte e possibilità di reinserimento sociale. Gli altri fuori, gli altri fuori, gli altri possono pagare il loro debito con la società, dentro la società, senza necessariamente essere rinchiusi dentro quelle quattro gabbie. O ci si muove in questa direzione o altrimenti la crisi del penitenziario sarà crisi sempre aperta e in realtà il penitenziario servirà a quella funzione segregativa, non sulla base semplicemente di un principio securitario, ma addirittura sulla base di un principio di meritevolezza. Perché il cambiamento che c'è stato, diciamo così, dentro il nostro sistema penitenziario, che appunto si colloca all'inizio degli anni 90, ma come noi in gran parte dei paesi occidentali, è legato a un cambio culturale profondo che dà un modello, diciamo così, inclusivo, che è quello della Costituzione Repubblicana, no? E su cui nasce la riforma penitenziaria, purtroppo troppo tardi nasce rispetto a quel modello, no? Si passa invece a un modello esclusivo meritocratico e allora il marginale deve essere chiuso perché il marginale rompe le scatole, non può stare, diciamo così, in città. Io nella mia esperienza di garante, ma altri colleghi lo sapranno nello stesso modo, no? Vediamo come vengono usati i trattamenti sanitari obbligatori, ma non in carcere, quelli fuori. Trattamenti sanitari obbligatori che vengono usati semplicemente perché ci sono le persone che dormono all'ingresso della banca, la mattina come si fa ad aprire la banca? Trattamento sanitario obbligatorio. Questo è un modello culturale fondato appunto su un principio meritocratico. No, ti inviterei a... Chiedo, chiudo subito. È fondato esattamente... Ma è molto interessante, però abbiamo... Scusa. ...su un rovesciamento, no? Un rovesciamento del modello inclusivo universalistico della Costituzione invece verso un modello meritocratico che si basa sul principio di esclusione di chi non ce la fa, non merita, non deve. Allora è questo.